Fisicamente sono tanta roba, sicuramente sono ragazzi giovani, molto fisicati, però noi guardiamo più nel nostro campo, abbiamo fatto un po' fatica magari in certe situazioni come è normale all'inizio della preparazione, dovremo curare di più alcuni dettagli di squadra. Stiamo entrando in forma, arrivavamo comunque da due giorni e mezzo di stop, quindi a inizio settimana non è mai facile riprendere con un ritmo così elevato, siamo comunque soddisfatti per tutto ciò che vediamo in campo, poi possiamo analizzarlo, parlarne tra di noi e migliorarci, quindi ogni amichevole è uno spunto positivo per noi.